Allora bentornati all'isola, io mi vorrei collegare subito con la palapa perché durante la pubblicità c'è stato uno sforzo di Nancy Io sono scappata Allora mi collegate per favore con la palapa, voglio capire che cosa è successo Live Ricordate che arriva Lanzo a difendere il suo Buenever sempre Si sta trattenendo lui, si sta trattenendo lui Si sta trattenendo lui per voi Posso andare? Un attimo Apritemi l'audio in palapa, scusate Allora apritemi l'audio in palapa